Salve a tutti e bentrovati. Oggi vi propongo un libro davvero particolare che merita moltissimo a mio avviso. Insieme a Marco Biraghi e il libro della porta andremo a sondare misteri, significati simbolici legati proprio alla porta. La porta è perciò di cui manca, cioè nel costruire una casa l'uomo lascia uno spazio vuoto attraverso il quale questa apertura si può avere accesso alla casa, all'abitazione. Uno spazio quindi non colmato dal materiale impiegato per la costruzione. L'uomo cioè costruisce la casa, ci viene detta da Biraghi, e non costruisce la porta. Ma proprio questo mancare della porta, questa sua assenza è anche la sua più profonda essenza. Quindi già abbiamo molto da riflettere, ma vediamo che cosa ci dice il Tao a proposito. Si ha un bel lavorare l'argilla per fare il vasellame. L'utilità del vasellame dipende da ciò che non c'è. Si ha un bel aprire porte e finestre per fare una casa. L'utilità della casa dipende da ciò che non c'è. Quindi c'è questo elemento dell'assenza, del vuoto che però determina il significato, la presenza. La porta inoltre è sempre qualcosa che sta in rapporto con le azioni di separare e di collegare, dell'accesso e dell'uscita, del rimanere fuori. Simmel scrive ponte e porta. Mette in luce proprio questa capacità tutta umana di cogliere il separato e di metterlo in relazione. La porta è più aperta del semplice spazio aperto e più chiusa dell'indifferenziata parete. Questo è quello che Simmel ci mette in luce e dice che la parete è muta mentre la porta parla. Parla del suo stesso limite valicabile. Nell'aperto c'è il senso di libertà, ma non di una libertà assoluta. Simmel dice proprio che l'uomo deve imporsi un limite mediante il movimento della porta, la possibilità di slanciarsi in ogni momento al di fuori di questo limite. E qui noi troviamo poi vari esempi di porta, illustrazioni davvero incredibili che ora andremo a vedere, che impreziosiscono il libro, che lo rendono ancora più affascinante e quindi vediamo che attraverso quelle che sono l'architettura, le litografie, le xilografie, la letteratura, la sociologia. In questo libro troviamo più libri in uno e tutto attraverso proprio questo leitmotiv della porta. Simmel, Kafka, Walser, non riescono a sopportarla, non reggono il suo portare alla crisi. Anche per Musil, ci viene detto, è impossibile pensare fino in fondo a quello che sembra essere il destino proprio della porta e la sottrae in modo nostalgico al grande oceano della dimenticanza e in qualche modo proprio così la salva. e allora entriamo, o meglio, rimaniamo, sostiamo, in attesa di capirne di più e proprio stando dove? Sulla soglia. La soglia che cos'è? È cesura, è passaggio, è termine e al contempo è inizio, ma di che cosa? Il limen, tra l'esterno, estraneo e il mondo domestico, tra il sacro e il profano, è il confino, è una zona che sta tra nessun linguaggio comune tra loro, tra queste due parti, esterno e interno, tra sacro e profano. Sono due mondi confinanti ma separati. Ed è questo che li rende così vicini e lontani al contempo, così affascinanti nel cercare proprio di sondarli, di capire rituali, divieti, delle madri, per esempio, delle madri, qui viene detto palestinesi, che non potevano allattare sulla soglia, al bimbo che viene picchiato sulla soglia e se questo avviene, ecco che il pericolo è quello di ammalarsi gravemente. E quindi delle credenze superstiziose che portano proprio tutta la valenza di queste consuetudini, per esempio anche quelle positive, le testimonianze austriache, dette da Hank, di come le donne ponevano una sedia sulla soglia e stavano lì a lavorare a maglia. E quindi analogamente la soglia della città. Qui abbiamo molte porte, la mia città Bologna ne ha diverse. Qui vengono proprio mostrate tante porte di tipo diverso e le porte della città sono che cosa? L'imago mundi, fuori dalla quale città domina che cosa? Lo spazio caotico. Ancora c'è un richiamo in mito e quindi andiamo naturalmente nella culla del mito occidentale che è l'antica Grecia. E qui è il luogo di Hermes, dove proprio Dio dei cambiamenti, dei cambiamenti di stato, per il quale non esistono serrature. E quindi la caratteristica è di essere trichefalos, dotato di triplice volto, controlla tutte le direzioni dello spazio e contemporaneamente vicino a Hermes troviamo Giano, il Dio romano, di fronte, custode delle porte celesti, Ianuario, patrono di tutti gli inizi, ha valore proprio apotropaico, ha funzione protettiva. E' di minaccia, allontana e distrugge gli influssi malefici. E a pagina 43 di questo meraviglioso libro troviamo proprio qui l'immagine di Giovanni Battista Piranesi, di l'arco di Giano, da alcune vedute di archi trionfali ad altri monumenti, 1765. Guardate che meraviglia! Un'altra porta presa in esame qui da Biraghi è la porta magica, che si apre come? Con una parola segreta. E quindi l'apriti sesamo delle mille una notte di Alibaba, dei 40 ladroni, era proprio anche qui una distanza tra il sacro e il profano. Chiamando la porta con il suo nome, senza cercare di comprenderlo, si stringe che cosa? Un'alleanza con la magia. Il nome infatti custodisce l'essenza profonda del magico. La porta ha anche valenze simboliche, come inizium nel mondo. Io qui non le prenderò in esame tutte, è un volume corposo, denso, intenso, ricchissimo. Però qualcosa che mi ha colpito, in questo video ve lo voglio comunicare. E in particolare questo so stare come una sorta di ascesa spirituale proprio. E nei culti misterici di Mitra compare proprio il simbolo della scala a sette porte. E l'ottava porta rappresenta la liberazione dell'anima dall'incarnazione, dai pesi della carne. E quindi è molto importante viverla come anche una sorta di simbolo di ascesa spirituale o ancora di sviluppo e crescita interiore. Allora sondiamo meglio quelli che sono i significati della porta aperta e chiusa. Per la saggezza proprio proverbiale, una porta chiusa è semplicemente, e qui c'è un gioco di parole, una porta non aperta. E una porta aperta è una porta non chiusa. Anche la porta serrata, con maggior cura, prima o poi finirà con l'aprirsi. E sempre per seguire questo paradosso, per essere certi della chiusura, dovremo affidarci alla porta senza chiave e senza serratura. Allora sì, che in qualche modo si vanifica il senso stesso della chiusura o dell'apertura, della possibilità, se c'è una porta chiusa chiave, di riuscire al contrario ad aprirla, o viceversa, in una porta aperta di richiuderla. Il saggio Lao Tse scrive Chi sa chiudere bene non ha né sbarre né chiavistelli, eppure la porta non può essere aperta. Nessuna chiave può violare una serratura che manca, che non c'è, è ovvio. Curioso e sinistro quanto basta, invece, il tema degli animali e degli esseri mostruosi. Anche qui è meraviglioso, davvero, anche quello che trovate come illustrazione. Posti proprio sulla chiave di volta della porta, con funzione offensiva. In una splendida illustrazione di Federico Zuccari, per la Divina Commedia, la porta di dite viene raffigurata, ornata alla sommità, di teste di animali ributtanti, teschi, serpi, mostri con zanne. Questa porta sarà oltrepassabile da chi? Da Dante, da Virgilio, però solo grazie alla mediazione del Divino. Poi ho fatto, insieme a Biraghi, una ulteriore scoperta. La porta forte. In antichità rappresentata dalla porta dei leoni di Micene, con le colossali dimensioni dei pilastri monolitici, che ci lascia naturalmente sgomenti. E dal 1400 verrà poi ripresa la funzione degli atlanti, che è quella proprio di sorreggere le architravi, le logge, queste colonne rinforzate, forzute, per richiamarsi proprio al doppio binario di forza e di fatica. Infatti, nei testi più antichi, chi è atlante svolge il proprio compito senza sforzi apparenti, quindi tiene su il mondo, sorregge, tutto con tutto questo peso, come se non facesse nessuna fatica. In Omero, ma anche nella teogonia di Esiodo, ci viene detto che atlante è il simbolo della forza che mai viene meno. E qual è, si chiede Boulay nel 1700, la porta più preziosa? Ecco che qui, oltre alla forza, abbiamo quella più preziosa, un vero e proprio tesoro in lei. E qual è? È la porta che racchiude le conoscenze, quindi la biblioteca. In essa è contenuta il mondo intero, tutto lo scibile. La vera porta della biblioteca è la grande sfera. E qui, ovviamente, per me è davvero qualcosa di meraviglioso. Questa porta della biblioteca come grande sfera sospesa, tenuta in equilibrio dal duplice atlante. e si richiama alla leggendaria colonna cosmica situata al centro dell'universo, con la funzione propria di segnare un'apertura in opposizione al caos. Quello che anche la conoscenza dovrebbe fare, cioè essere da faro per l'umanità, per tutti gli esseri senzienti e guidarli verso la saggezza, verso l'equilibrio e contro quella che è l'entropia, il caos. Una chiusura, quindi sospesa, mantenuta in un certo equilibrio, proprio fenomenico, ma anche simbolico, cosmologico, che riassume la tensione totalizzante della biblioteca a totalità, che non è mai raggiungibile del tutto ed è sempre sul punto di dissolversi. È davvero affascinante. E quindi proseguendo in questo viaggio non può mancare un altro tipo di porta, in questo viaggio nelle tipologie. naturalmente non ve li cito tutti, non vi voglio togliere il gusto, però così, a un po' sa, vediamo di darvi piccoli spunti, perché è davvero denso e davvero meritevole questo lavoro. E quindi la porta della prigione, la chiusura delle sbarre, è quella più tremenda. Esse rappresentano la privazione della libertà e dietro di esse sole, terra, cielo, tutto appare a strisce. Ma se questo tipo di porte rappresentano chiusura e ignominia, vi invito invece ad ammirare, di contraltare le innumerevoli immagini degli archi di trionfo, anche qui ce ne sono tantissimi, che celebrano proprio la città. Non sono solo le porte di entrate, di uscita, di confino, dalla città ordinata, piccolo, micro e cosmo, rispetto a tutto il resto caotico e pieno di pericoli, ma rappresentano nella città antica l'entrata proprio con tutti i suoi fasti in una sorta di rito di passaggio ed è molto suggestiva la chiusura inenarrabile vigilata da due cherubini con la spada fiammeggiante dell'ingresso del paradiso, dell'Eden, dove questo paradiso terrestre è segnato dal peccato di Adamo, questa porta quindi che sancisce la rottura dell'armonia con Dio, che sbarra inesorabilmente all'uomo l'accesso all'albero della vita. E da qui, dal paradiso terrestre, dal peccato, arriviamo alla porta della morte di Etterlin. Ed è davvero spettacolare perché domina proprio questa clessidra che ha le ali e le trombe del giudizio ci fanno precipitare davvero in una genna di corpi, di membra umane, di uccelli rapaci, di cani, fino al cuore della morte, i cui custodi sono Mosè e Aronne. E vi lascio qui a voi la scoperta di queste due figure bibliche di cui si parla diffusamente e che davvero mi hanno arricchito sia le immagini sia queste narrazioni. Ma non posso, non posso non mostrarvi la splendida tavola di Blake. Con la semplice opposizione di due qualità di linee dritte e curve si scontrano il duraturo e l'imperituro. E davvero abbiamo qui La porta della morte di Blake. Potente questa immagine. Per finire con La porta di Friedrich dove davvero vi è l'allusione a un altro transito la condensazione tra distanza e vicinanza tra due mondi chiusa al transito dei mortali porta che si identifica con con il dolore con la disperazione che spezza e riunisce l'intimità della differenza tra vita e morte che l'essere umano non può penetrare non può non può andare al di là di quel mistero ma solo starvi di fronte. E ora valichiamo un'altra un'altra ancora la soglia del socchiuso la porta socchiusa e ricordiamo la frase di Bachelard la porta è tutto un cosmo del socchiuso perché non è solo uno spazio fisico ma un luogo dell'essere e quindi davvero qui abbiamo una dimensione filosofica nelle notti di maggio scrive Bachelard quando tante porte sono chiuse venne una appena socchiusa sarà sufficiente spingere con molta dolcezza i cardini sono stati ben oliati si disegna allora un destino la porta semiaperta è la porta delle tentazioni esaudite sia pur sempre soltanto a metà è insomma la porta del wire appagato contento al contrario la porta semi chiusa è la porta dei desideri della curiosità che si fa tanto più bruciante quanto più in essa il battente con la sua posizione indecisa tra virgolette nasconde allo sguardo ciò che soltanto in minima parte svela in tale azione di svelante ma insieme rivelante è custodita l'essenza stessa della porta semi chiusa davanti a essa non riusciamo a non pensare agli inenarrabili misteri che hanno luogo dietro di essa e quindi qui vedete delle porte socchiuse emblematiche filosofiche perché in questo limite in questa interno che in cui poi si vede l'esterno o ancora in questo interno come scatola prospettica abbiamo davvero un valore della porta socchiusa panoptico perché apre a esperimenti anamorfici proprio la spazialità e quindi è davvero un esperire qualcosa di molto particolare questi interni come rappresentazione architettonica di che cosa dell'interno dell'intimo dell'intimità di noi stessi per questo dico significato profondamente filosofico e nel celebre dipinto Las Meninas di Velázquez vi è un ribaltamento e a me molto caro lo sapete dove siamo noi noi spettatori a essere guardati infatti l'attrazione esercitata da una porta socchiusa ha un valore bionivoco e proprio perché nessuna reale architettura può incarnare durevolmente le condizioni di esistenza del socchiuso e nell'architettura reale cristallizzata in una configurazione non più mutevole si tramuta fatalmente in fessura ed Elia Scannetti diceva che quando porte e finestre sono frantumati la casa ha perso la propria personalità la porta diviene l'elemento infatti essenziale del grande volto pietrificato dell'architettura diventa il volto della casa in qualche modo quasi la sua personificazione volto del volto la quintessenza della costruzione porta bocca apertura una porta una porta che ha perso la parola oppure porta sorda e quindi c'è riferimento alla comunicazione al volto che si tramuta in maschera e infatti abbiamo molte porte aperture come dei mascheroni o queste maschere che sono sopra l'architrave della porta e l'aspetto intrigante di queste porte è che soltanto in apparenza si manifestano come maschere e l'essenza profonda invece è quella del volto sembrano maschere ma in realtà sono volti e infatti qui proprio per farvi capire questo concetto qui per esempio vi faccio vedere questa quasi buffa tra il mostruoso e il buffo viene detto non però di quelle porte che soltanto in apparenza si manifestano come maschere e la cui essenza più profonda invece è proprio il volto una testa mostruosa o mascherone umano o bestiale o entrambi insieme le grandi porte della cittadella di Angor Tom recanti quattro enormi volti orientati ciascuno in una direzione dello spazio così come le piatte maschere leonine scolpite nella montagna di roccia del Borumbudur sono tra gli esempi più rinomati di questa usanza ciò che queste porte rappresentano anche quando il loro aspetto si avvicina di più a quello di una maschera fantastica e spaventosa fauci di carnivoro armate di grandi zanne corne di bufalo o di ariete muso o ciuffi di gufo munconi d'ala e artigli di uccello è la faccia di dio o faccia di gloria secondo il significato letterario di Chirmurca e ancora vediamo in queste in Federico Zuccheri il mascherone di via Gregoriana quindi abbiamo una porta orientale la porta del pura Goa Gajà di Bali questa e quella invece del mascherone a Roma di casa Zuccari e quindi faccia di pietra fauci che la porta spalanca in direzione di chi voglia sorpassare la soglia rappresentata dalla bocca l'apertura della porta il naso corto e camuso è la chiave di volta occhi sono il frontespizio fra stagliate e ondeggiante vellose e bulbiforme il quale nel mezzo tiene uno stemma orecchie infine inseriscono tra stipidi e lesene bugnate quasi a tenerli discosti e quindi a volte questa porta mascherata vuole giocare a stupire a stupire con un o a intimorire con un pullulare di animali mostri grovigli di corpe come le porte di Eddie Eterlin del 1598 gustatevele davvero e tenete presente che alle mascherature delle porte non si pongono limiti sono in balia del furor combinatorio dell'architetto per questo è un gioco artistico in cui ci si sbizzarrisce e c'è questa bellezza proprio della cornice che cresce si accresce attorno alla porta e non solo ripeto come aspetto estetico voi potete leggere questo libro anche solo da un punto di vista architettonico estetico ma questo segna il limite la sospensione sempre tra interno ed esterno per Ortega e Gasset tale Limen è un isolatore risponde a una vera e propria esigenza fisiologica di comunicare ma anche di mettere delle distanze isolare la frontiera tra due regioni porte e volto che vi invito veramente a visitare a contemplare che per ragioni di tempistica non non posso soffermarmi ma sondate proprio questi legami tra porta caverna porta labirinto e non privatevene se prenderete questo libro e avviandoci alla conclusione non posso non toccare ovviamente la porta aperta e qui abbiamo abbiamo proprio Magritte che solleva alcuni interrogativi e ci dice proprio che questo territorio che è aperto e che sembrerebbe quindi qualcosa di chiaro di assolutamente non problematico invece sconfina nel territorio dell'ambiguo e lo stato fisico della porta deve coniugarsi necessariamente con un aspetto spirituale ovvero una volta ancora con un ben preciso volto ma qual è il volto della porta aperta in un quadro del pittore marvin sono rappresentate due porti affiancate l'una aperta e l'altra chiusa e si oscilla continuamente tra l'una e l'altra tra un'impressione di familiarità semplicità naturalezza e un'impressione di minaccia solo temporaneamente sospesa quel che di certo si intuisce comunque che la porta aperta ritornerà di nuovo a chiudersi e che la porta chiusa si aprirà nessuna differenza di volto tra le due solo una momentanea diversità di stato nella loro assoluta ordinarietà entrambe le porte si mostrano perciò che sono disponibili pronte a ricevere entrambe promettono discrezione così nell'apertura come nella chiusura e le réponses imprevenues di Magritte ci ci dice adesso ve lo faccio vedere che guardate 1933 qui andiamo proprio in una dimensione surrealista ci dice che la porta ci pone in contatto arriviamo a questo con il vuoto come buco la porta ha in sé gli interrogativi senza risposta e è la risposta purtroppo dell'uomo contemporaneo l'assenza di risposta a fronte di tante domande una porta imprevista sempre aperta sempre chiusa mai aperta mai chiusa contradvittoria paradossale apertura infinita della sua chiusura davvero un paradosso e questa apertura come buco come assenza come vuoto infinita e come nella porta di Duchamp andiamo ancora a vederne un'altra questa vedete vi è lo sconcerto del bizzarro di questa società consumistica postmoderna e la duplicità degli opposti fino ad arrivare proprio a questo tipo di approccio della porta girevole come davvero questo emblema del consumismo questa porta non è più rigida ma pur nella rigidità il suo moto è rotatorio e in nessun modo si piega la volontà altrui predomina l'indifferenza sua nei confronti proprio di chi la usa e viceversa non offre protezioni rifugi per via dei luoghi a cui introduce che sono interni ma hanno qualcosa di esterno nella porta girevole davvero lo spirito stesso dell'abitare è pubblico così come per la porta specchi si gioca sul visibile e sull'invisibile il manifestarsi proprio del volto della casa e del suo absconditus e quindi si gioca nell'ambivalenza tipica della dimensione dell'uomo postmoderno che non ha più risposte che non ha più certezze di nessun tipo e che si barcamena che può giocare sull'ironia che può essere tra il visibile e l'invisibile che spesso è indifferente vuoto e solamente preso dalla leggerezza la futilità del consumismo e ancora a questo elemento absconditus si richiama il riservo alla casa in una sua dimensione invece meditativa profonda come un koan che dissolve i vincoli in questo caso spaziali massivi della porta e questa forma senza forma è la vera forma della realtà diventa uno spazio interiore labirintico di Mies per esempio quest'architetto tedesco che ho scoperto qui Mies van der Rohe dirà meno è più meno è meglio lui accetta la modernità senza subirla ecco una nuova ottica disegna l'ordine lo interpreta in senso filosofico riprendendo la lezione di San Tommaso d'Aquino e anche di Sant'Agostino di Agostino di Pona concetti centrali sono proprio questo sottrarre questo togliere nel minimo c'è il massimo togliere è meglio per arrivare all'essenza delle cose all'essenziale espresso nella razionalità nell'ordine e nella chiarezza riduce così la complessità dei fenomeni realizzando al contempo proprio delle architetture classiche e moderne senza tempo il tempo si dissolve e quindi ci sono queste immagini che Mies ci offre e in questa assoluta dissoluzione che si arresta sulla soglia del quasi nulla è racchiuso il segreto del koan Miesiano della porta ecco che ritorniamo quindi allo Zen dall'assenza di senso si recupera senso ma attraverso la sottrazione il togliere l'essenzialità soltanto chi abbia oltrepassato la barriera di questa porta può dichiarare per la prima volta come realtà sostanziale che essa è senza porta meditate gente meditate e leggete gustate assaporate questo viaggio meraviglioso alla prossima namaste grazie a tutti